Seconda edizione del telegiornale dell'Emilia Romagna. Buonasera, è stata firmata un'ordinanza per semplificare gli adempimenti burocratici per aziende e per negozi nelle zone terremotate e poi prima dell'inverno case sfitte o moduli abitativi per tutti coloro che non hanno più un'abitazione. Lo dice il Presidente della Regione, commissario straordinario per la ricostruzione Vasco e Rani, che definisce le scuole un'altra priorità assoluta. Per saperne di più seguiamo l'intervista realizzata da Ivan Epicoco. La situazione delle zone terremotate impone regole adeguate a un contesto così particolare. Per questo la nuova ordinanza della Regione vuole superare i limiti di una certa burocrazia. Un'ordinanza di semplificazione di tutte le procedure per quelle imprese produttive, di servizi commerciali che debbono trasferire temporaneamente o definitivamente le loro attività in altre zone, naturalmente non delocalizzare fuori dalle aree interessate, tutta una serie di facilitazioni e sborrocratizzazione che consente di rendere il meccanismo abbastanza semplice naturalmente nel rispetto delle regole fondamentali. Lavoro, imprese e scuola le priorità di questa fase. Con la nuova ordinanza si danno risposte alle esigenze dell'economia. Per garantire la regolarità del prossimo anno scolastico si è già messa in moto la macchina degli interventi che tra l'altro definirà la sistemazione di 161 edifici. Le soluzioni abitative per gli sfollati sono il nuovo passo ora da compiere in tempi brevi. Faremo come per le scuole, in tempi rapidissimi, un piano per evitare che l'inverno sia trascorso in tenda, che naturalmente non è possibile, e affrontare il tema con o case sfitte che saranno assicurate a questi cittadini o moduli tempranei per assicurare la fase di transizione dalla sistemazione delle case. Perché per noi il nostro problema principale è favorire il rientro nelle proprie abitazioni. Definire la percentuale del danno che sarà riconosciuta col contributo dell'ottato ai cittadini, in modo tale da metterli in condizione anche con un sostegno al credito di poter operare rapidamente questi loro interventi. La difficile realtà attuale comunque non intacca la volontà di una ripresa totale, senza compromessi. C'è la forte determinazione a ricostruire, e ricostruire bene e meglio, e a riattivare quella grande qualità sociale e economica che è rappresentata da questi territori, obiettivi a cui non intendiamo in nessun modo rinunciare.